Ciao a tutti, sono Ignazio Gattuso e benvenuti nel mio blog Ulisse 2.0. Sono uno studente palermitano di 23 anni e oggi vi racconterò la mia storia e le mie passioni. Da piccolo per me il calcio è stata la mia principale passione, infatti la ritengo un momento in cui condividere forti emozioni ed esperienze con i miei compagni, spiorando anche all'età dei 18 anni con la squadra della mia città, il Palermo, il mondo del calcio professionistico. Adesso ci troviamo a Palazzo d'Orlean, la sede storica della Presidenza della Regione Siciliana. Per me questo luogo rappresenta un posto molto significativo in quanto da pochi mesi ho intrapreso un cammino politico fondando un nuovo movimento che si chiama l'idea nuova, simbolo del mio impegno per il raggiungimento del bene comune e della passione civile che mi hanno trasmesso sin da piccolo i miei genitori. Per ogni fine qui siamo all'Università degli Studi di Palermo, anche questo rappresenta un luogo molto significativo per me perché ho appreso le basi del mio percorso didattico che oggi sto continuando alla Sapienza di Roma. Da pochi mesi ho aperto il mio blog e invito tutti a seguirmi in quanto svilupperò degli approfondimenti legati alle principali politiche pubbliche che le regioni italiane stanno mettendo in atto in campo turistico per incentivare i flussi turistici in entratta. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!